bentornati sul mio canale amici o se siete nuovi benvenuti sono elisa true crime e anche oggi mi siedo qui con voi e vi racconto una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata oggi amici parliamo di un caso davvero frustrante e spaventoso ma soprattutto parliamo di un caso di ingiustizia ma prima di iniziare voglio ringraziare lo sponsor del video di oggi Satispay Satispay è l'app per la gestione delle tue finanze a 360 gradi in quanto con un semplice tap sul tuo smartphone potrai inviare denaro ai tuoi contatti ricaricare il credito telefonico risparmiare fare donazioni e pagare bollettini o multe oggi parliamo di un'altra utilissima funzione di Satispay risparmi per iniziare a risparmiare con Satispay vi basta scegliere una o più delle seguenti modalità la modalità spiccioli che accantona il resto dei tuoi acquisti arrotondandolo all'euro per esempio se paghi 1 euro e 70 accumuli 30 centesimi oppure quella cashback che ti permette di mettere da parte il cashback ricevuto oppure puoi semplicemente scegliere un importo periodico ricorrente ovviamente tutte le operazioni di deposito e prelievo sono gratuite e le impostazioni modificabili in qualsiasi momento ma mi sento di consigliarvi questa funzione di Satispay soprattutto per chi come me ha le mani praticamente bucate e difficilmente riesce a mettere da parte dei soldi avete pensato che accantonando solo 20 euro alla settimana risparmiereste più di 1000 euro in un anno potrete creare diversi salvadanai digitali e utilizzarli ogni volta che ne avete necessità soprattutto quando la disponibilità in app sta per terminare ma non è finita qui Satispay vi offre anche una soluzione per tutti quegli amici smemorati che ogni volta che si devono raccogliere dei soldi insieme dimenticano i contanti grazie al salvadanaio condiviso raccogliere soldi tra amici infatti sarà semplice ed immediato quindi cosa aspettate ad iniziare a risparmiare ma soprattutto a farvi semplificare la vita da Satispay vi lascio come sempre il mio link sotto in descrizione e ricordate che utilizzando il codice promo ELISA True Crime riceverete subito 5 euro in omaggio prego non c'è di che ed eccoci qua amici adesso possiamo cominciare con il caso di oggi oggi vi parlo di quello che è diventato noto come The Freeway Phantom il fantasma della superstrada è il pomeriggio del 25 aprile del 1971 a Washington DC e Carol Spinks una ragazza afroamericana di 13 anni sta andando al supermercato locale per fare un po di spesa era stata sua sorella maggiore Valerie a chiederle di andare a fare la spesa per tutta la famiglia era una commissione che Carol faceva molto spesso il supermercato si trovava a circa 800 metri da casa loro non era nulla al di fuori dalla loro solita routine solitamente Carol ci metteva non più di due ore per fare la spesa ma quella volta succede qualcosa di diverso perché Carol non tornerà mai più a casa la famiglia è disperata e purtroppo tutte le loro peggiori paure diventano realtà quando sei giorni dopo viene trovato il suo corpo senza vita affianco alla superstrada 295 alle spalle di un ospedale psichiatrico di nome St. Elizabeth e tra l'altro amici questo ospedale il St. Elizabeth è lo stesso se vi ricordate in cui era stato ricoverato John Hinckley Jr ne abbiamo parlato nel video precedente ed è una totale coincidenza ovviamente ma negli ultimi video che ho fatto ci sono un sacco di elementi in comune nel video di Marilyn Monroe parlo dei Kennedy e di Jimmy Hoffa che ritroviamo poi nel video di John Hinckley che è stato ricoverato nell'ospedale che ritroviamo in questo video sembra veramente essere tutto collegato comunque andiamo avanti il corpo di Carol viene trovato senza scarpe le scarpe non verranno mai ritrovate Carol era completamente vestita ma dall'autopsia emerge che aveva subito violenze e subito dopo era stata angolata e quella era la causa della morte il medico legale scopre anche la presenza di tracce di un frutto nel suo stomaco un agrume questo significava che l'aggressore le avesse dato da mangiare prima di ucciderla brutalmente dall'autopsia si scopre anche che Carol fosse morta da non più di due o tre giorni e questo porta gli investigatori a pensare che qualcuno l'avesse rapita mentre tornava a casa dal supermercato e che l'avessero tenuta prigioniera per qualche giorno prima di ucciderla diversi testimoni dichiarano di averla vista al giorno della sua sparizione mentre tornava a casa con una busta in mano piena di cibo ma purtroppo oltre queste testimonianze i detective non hanno altri indizi né piste da seguire di conseguenza dopo un po il caso si raffredda la comunità i cittadini erano spaventati da quell'avvenimento ma speravano che la morte di Carol fosse un caso isolato purtroppo però non era così perché due mesi dopo il 9 luglio del 1971 una ragazza di 16 anni di nome Darlinia Johnson sparisce nel nulla anche lei viveva nello stesso vicinato di Carol nella stessa zona e al momento della sua sparizione si stava recando all'Oxon Hill Recreation Center un centro ricreativo in cui lavorava come animatrice quella sera Darlinia avrebbe dovuto passare tutta la notte in questo centro ricreativo che era una sorta di centro estivo con la piscina in cui i ragazzi e i bambini passavano l'estate facendo diverse attività lei quindi quella notte doveva stare di turno per supervisionare questi ragazzi e per questo motivo sua madre sapeva che non sarebbe tornata fino alla mattina seguente ma quando Darlinia non si presenta sul posto di lavoro quella sera i responsabili denunciano subito la sua scomparsa le autorità un testimone si fa avanti dicendo che Darlinia aveva passato il pomeriggio con il suo fidanzato prima di recarsi a lavoro quindi la polizia decide di interrogare questo ragazzo il fidanzato ma sua madre lo impedisce si rifiuta di far parlare suo figlio con le autorità e onestamente non ho trovato molte informazioni su questo quindi volevo fare un appunto Darlinia era afroamericana il suo fidanzato anche e quelli erano gli anni 70 e parleremo meglio della cosa più avanti nel video ma c'era molta sfiducia da parte delle persone nere verso la polizia quindi probabilmente la madre di questo ragazzino non ha permesso a suo figlio di parlare con le autorità per proteggerlo perché le ingiustizie che le persone nere subivano delle autorità in quegli anni in america erano davvero quasi la normalità questa pista comunque non stava portando a nulla quindi i detective spostano la loro attenzione su un altro testimone che afferma di aver visto Darlinia la sera della sua sparizione a bordo di una macchina nera insieme ad un uomo afroamericano che stava alla guida provano quindi ad identificare l'auto o l'uomo ma senza nessun successo e come se questo non fosse già abbastanza per la famiglia di Darlinia sua madre inizia anche a ricevere delle telefonate molto inquietanti da parte di qualcuno che praticamente la chiamava di continuo e poi non parlava stava in silenzio tutto il tempo finché un giorno all'ennesima telefonata anonima questa persona dice sottovoce ho ucciso tua figlia purtroppo non si è mai scoperto chi fosse questa persona se fosse un cretino che faceva degli scherzi se così si possono definire oppure no fatto sta che circa due settimane dopo viene ritrovato il corpo di Darlinia un uomo stava guidando sulla superstrada 295 la stessa su cui era stato trovato il corpo della prima vittima carol quando ad un certo punto la sua macchina aveva iniziato ad avere dei problemi l'uomo era stato quindi costretto ad accostare nella corsia d'emergenza e mentre tentava di capire che problema avesse l'auto aveva visto poco lontano da lì il corpo senza vita della giovane ragazza immediatamente l'uomo aveva contattato le autorità riferendogli la cosa ma per qualche motivo la polizia reagisce a questa segnalazione trattandola come se fosse una segnalazione fasulla senza neanche andare lì a controllare un paio di giorni dopo infatti l'uomo torna sul posto e vede con orrore che il corpo era ancora lì allora ricontatta le autorità e questa volta fortunatamente la gente che era di turno prende più seriamente la cosa e dopo aver mandato una squadra di soccorso scoprono che quello era infatti il corpo della povera Darlinia che si trovava solo a sei metri da dove era stato trovato il corpo di carol pochi mesi prima anche a Darlinia mancavano entrambe le scarpe ma i resti erano così tanto decomposti che per il medico legale è stato impossibile capire se avesse subito violenze oppure no anche in questo caso comunque la causa della sua morte era singolamento e come nel caso di carol le autorità non trovano nessun indizio non sanno che pista seguire ai tempi non esisteva neanche l'esame del dna quindi diciamo che le indagini andavano a rilento e secondo la gente comunque la polizia non si stava neanche impegnando più di tanto ma la pressione sulla polizia di washington si intensifica quando otto giorni dopo viene trovato un altro corpo questa volta di una bambina di dieci anni di nome brenda faye crockett brenda viveva al sud dello stato di washington dc insieme a sua mamma sua sorella berta sua sorella minore e al fidanzato di sua mamma e il 27 luglio del 1971 le era stato chiesto di andare al supermercato per comprare del pane e del cibo per il loro cane sua mamma le aveva detto di andare insieme alla sua amica che suppongo fosse anche una vicina di casa ma brenda decide di andarci da sola e purtroppo questa sua decisione le costerà la vita dopo un'ora vedendo che la figlia non era ancora tornata la madre si preoccupa e immediatamente esce a cercarla insieme al suo fidanzato lasciando la figlia minore a casa da sola berta e proprio in quel frangente suona il telefono e quando berta risponde sente che dall'altro capo della linea c'era proprio sua sorella brenda che piangeva istericamente dicendole che un uomo bianco l'aveva presa l'aveva portata in virginia e stava tornando a casa in taxi ma poi improvvisamente aveva riagganciato il telefono poco dopo il telefono suona nuovamente a quel punto in casa c'era il fidanzato della madre che risponde era di nuovo brenda il fidanzato della madre prova ad ottenere più informazioni da lei ma senza successo gli ripete quello che aveva già detto alla sorellina cioè che un uomo bianco l'aveva presa è portata in virginia e poi gli fa una domanda un po' bizzarra gli chiede se sua madre l'avesse vista cioè gli chiede sai se mia madre mi ha vista e aggiunge anche che si trovava da sola in una casa insieme appunto a quest'uomo bianco il fidanzato della madre le chiede quindi di passare il telefono a quest'uomo ma in quel momento sente un in sottofondo un rumore di pesanti passi e subito dopo brenda dice ci vediamo e riattacca il telefono ma la piccola brenda purtroppo non rivedrà mai più la sua famiglia il 28 luglio del 1971 era infatti stato ritrovato il suo corpo lungo un'altra superstrada da un autostoppista intorno al suo collo c'era ancora la sciarpa con cui era stata angolata e dall'autopsia emerge anche che aveva ricevuto violenze ora le scarpe le altre vittime erano state trovate tutte senza scarpe in questo caso pare che brenda fosse andata al supermercato già senza scarpe questo è quello che è riportato su tutti gli articoli ma una volta trovato il corpo i suoi piedi vengono trovati puliti come se qualcuno glieli avesse lavati prima di ucciderla o comunque prima di disfarsi del corpo anche in questo caso comunque i detective indagano tentano di capire da dove provenissero le telefonate che brenda era riuscita a fare ma senza nessun successo l'unica conclusione a cui arrivano le autorità è che quelle telefonate fossero programmate pensavano che brenda fosse stata portata a casa del killer che al contrario di quello che aveva detto la bambina secondo loro si trovava lì nei dintorni o comunque non molto lontano da lì brenda al telefono aveva detto di trovarsi in virginia e non è chiaro il motivo di questa cosa il virginia si trova a circa quattro ore di macchina da washington e la telefonata era arrivata a circa due ore dalla sparizione di brenda quindi non è possibile che fosse davvero stata portata in virginia di conseguenza pensano che il killer abbia costretto brenda a dire quelle cose al telefono semplicemente per confondere le acque e per depistare le indagini cosa che stava funzionando perché come tutti gli altri casi anche questo non trova una soluzione e dopo un po' si raffredda due mesi dopo la morte di brenda viene trovata una quarta vittima una ragazzina di 12 anni di nome neonomoscia yates chiamata da tutti neno quindi anche io la chiamerò così nel corso del video neno viveva con la sua matrigna che aveva partorito da poco e quindi si propone lei per andare anche lei a far la spesa quel pomeriggio intorno alle 7 del primo ottobre 1971 quindi neno stava tornando verso casa dopo essere stata al supermercato quando anche lei viene rapita e solo tre ore dopo viene trovato il corpo nella contea di prince george nel maryland che dista una mezz'oretta da washington quindi siamo sempre nella stessa area diciamo le autorità interrogano gli impiegati del supermercato in cui era stata neno quella sera che però non sono per niente d'aiuto l'unica cosa che avevano visto erano dei piatti di plastica dello zucchero e della farina e tutte queste cose erano buttate per terra subito fuori dalla porta d'uscita che erano tutte le cose che aveva comprato neno quindi si suppone che sia stata rapita proprio lì nel parcheggio del supermercato esattamente come le altre vittime anche neno viene trovata senza scarpe aveva subito violenza ed era stata anche lei strangolata ma in questo caso specifico l'aggressore aveva usato così tanta violenza così tanta forza da romperle l'esofago un altro testimone si fa avanti dicendo di aver visto neno quella sera salire su una volkswagen blu ma anche stavolta il veicolo non viene mai identificato a questo punto siamo a quattro vittime tutte donne tutte più o meno della stessa età tutte afroamericane e tutte uccise con lo stesso modus operandi era chiaro che le autorità avessero davanti un serial killer ed è dopo questo quarto caso che i media iniziano a riferirsi a questa persona come the freeway phantom appunto il fantasma della superstrada la gente era terrorizzata dalla cosa e volevano che le autorità risolvessero il caso il più in fretta possibile ma purtroppo ogni pista che tentavano di percorrere portava ad un vicolo cieco dopo il ritrovamento del corpo di neno non succede più nulla per un po' di tempo le autorità pensano infatti che il freeway phantom si fosse magari spaventato da tutta quell'attenzione mediatica ricevuta e avesse deciso di fermarsi o di spostarsi beh le autorità si sbagliavano perché dopo sei settimane invece colpisce ancora questa volta la vittima è una ragazza di 18 anni di nome brenda woodard un'altra brenda che viveva insieme alla sua famiglia sempre nel maryland brenda frequentava un liceo serale e solitamente dopo lezione usciva con i suoi compagni di classe il 15 novembre del 1971 infatti brenda va a lezione e dopo va a cena insieme ad una sua compagna di classe in un ristorante di nome ben's chili bowl e dopo cena sale sull'autobus che l'avrebbe riportata a casa intorno alle 11 e 30 ma purtroppo a casa non ci arriverà mai circa sei ore dopo aver salutato la sua compagna di classe un agente di polizia trova per caso il suo corpo al lato di una strada anche lei era stata avventata singolata ma a differenza delle altre vittime lei era stata anche pugnalata più volte indossava un dolce vita nero che al momento del ritrovamento era indossato al contrario e tutti i bottoni del suo top e della sua gonna mancavano erano stati strappati un'altra cosa che era diversa dalle altre vittime è che brenda indossava le scarpe la polizia conclude che probabilmente brenda aveva lottato perché aveva numerose ferite da difesa sulle mani ma la cosa più inquietante è che nella tasca della sua gonna viene trovato un bigliettino scritto a mano che vi leggo ve lo traduco ma in realtà la versione originale è importante ora vi spiego il perché comunque traducendolo c'era scritto questo questo è l'equivalente della mia insensibilità verso la gente specialmente le donne rivelerò chi sono le altre quando riuscirete a prendermi se mai ce la farete freeway phantom ora in inglese chiunque avesse scritto questo foglietto per dire l'equivalente aveva usato il termine tantamount che è una parola particolare significa appunto una cosa che è equivalente o pari a però è una parola ricercata non molto comune nell'inglese di tutti i giorni le autorità si soffermano su questo proprio sulla scelta di questo termine e pensano che in qualche potesse essere un indizio o un elemento importante ma dopo un po l'fbi conclude che quel bigliettino non era stato scritto dal killer come chiaramente pensavano all'inizio era stato scritto da brenda stessa e a dimostrarlo era il fatto che quella fosse la sua calligrafia un esperto di scrittura dichiara inoltre che secondo le sue analisi brenda aveva scritto quel foglietto con calma non aveva rilevato segni di stress o forzatura nei tratti questo poteva voler significare che brenda conoscesse la persona che l'aveva aggredita ma perché scrivere quelle parole forse per gioco forse non si aspettava che l'avrebbe poi aggredita che l'avrebbe poi fatto del male non si è mai capito amici ma onestamente la prima cosa che ho pensato quando ho letto di questa vittima è che non fosse stata uccisa dal vero freeway phantom e continuando con le mie ricerche ho scoperto di non essere stata l'unica a pensarlo il modus operandi era diverso nessuna delle altre vittime era mai stata pugnalata inoltre le scarpe è chiaro che il freeway phantom avesse una fissazione per i piedi o qualcosa del genere perché nessuna delle sue vittime è mai stata trovata indossando le scarpe e il bigliettino insomma troppe cose in questo caso sono diverse dalle altre vittime non pensate si teorizza infatti che il responsabile sia un copycat un emulatore una persona che aveva voluto copiare il freeway phantom e purtroppo non sarebbe né la prima né l'ultima volta che una cosa del genere accade i detective riescono a recuperare anche due capelli trovati sui vestiti di brenda che analizzano come possono ma come già detto il test del dna non esisteva ancora e non riescono a scoprire nulla di nuovo nei mesi successivi alla morte di brenda non succede di nuovo niente il che porta la gente le autorità a pensare ancora una volta che il freeway phantom si fosse fermato che brenda fosse stata la sua ultima vittima ma anche stavolta non era così poco più di un anno dopo il 5 settembre del 72 il freeway phantom miete la sua sesta e stavolta davvero ultima vittima il suo nome era diane williams di 17 anni la notte in cui è sparita diane era stata a casa del suo fidanzato ed era andata via intorno alle 10 di sera e per l'ultima volta era stata avvistata da un testimone mentre aspettava l'autobus alla fermata il suo corpo era stato ritrovato la mattina dopo di nuovo lungo quella superstrada la 295 quella vicino all'ospedale saint elizabeth che si trovava anche vicino a casa sua di diane e come tutte le altre vittime anche a lei mancavano le scarpe anche lei era stata spangolata non c'erano segni di violenza ma vengono trovate tracce di liquido seminale sui suoi vestiti all'inizio la polizia pensa che possano appartenere al fidanzato ma quest'ultimo nega dicendo che quella sera non avevano avuto nessun rapporto e quindi era impossibile e di nuovo ai tempi il test del dna non esisteva quindi questa preziosa traccia di dna è praticamente inutile ora parliamo meglio dell'investigazione spesso come sappiamo i killer seriali hanno un tipo di vittima precisa ted bundy per esempio sceglieva ragazze giovani più o meno tutte della stessa età e la maggior parte con i capelli castani e anche il freeway phantom non era diverso in questo tutte le sue vittime erano giovani donne molto minute tutte afroamericane che vivevano nell'area di washington dc come abbiamo visto e anche il suo modus operandi era sempre lo stesso ma un'altra cosa che le vittime avevano in comune era il secondo nome carol spinks darlinia johnson brenda woodard e diane williams avevano tutte come secondo nome denise ma ovviamente poteva anche essere solo una coincidenza le autorità riportano anche che in cinque delle sei vittime erano state trovate delle fibre di colore verde ed erano stati trovati dei capelli afro negli indumenti intimi di tre delle sei ragazze e questo porta le autorità a pensare che il freeway phantom fosse un uomo afroamericano ma amici in generale le indagini di questi casi non sono state effettuate benissimo ecco tutti i testimoni che gli agenti interrogavano si rivelavano inutili tutte le piste che percorrevano portavano a vicoli ciechi e oltretutto erano arrivati alla conclusione che i crimini fossero collegati tra loro solo dopo la morte di neno che era la quarta vittima cioè fino a quel momento non avevano mica capito che fosse stata la stessa persona ad ucciderle e per quanto possa sembrare assurda ad oggi questa cosa ricordiamo sempre che parliamo del 1971 in quegli anni sapevano a malapena cosa fossero i serial killer persino ted bundy non aveva ancora iniziato a colpire in teoria diciamo che non era ancora stato beccato ecco comunque non era un concetto così comune come può esserlo oggi quello di assassino seriale non c'era tutta la consapevolezza e la conoscenza che c'è oggi a riguardo quindi da un lato diciamo che è comprensibile che non abbiano fatto subito quel collegamento oltretutto proprio in quel periodo era esploso lo scandalo di watergate che coinvolgeva il presidente nixon e si tratta di uno dei più grossi scandali politici della storia americana che aveva mandato il paese nel caos più totale per aiutare con le indagini un giornale locale di nome the evening star decide ad un certo punto di offrire 5.000 dollari di ricompensa a chiunque potesse fornire delle informazioni che portassero ad un arresto molte persone si fanno avanti intasando i telefoni e le caselle di posta della rivista ma alla fine nessuna di quelle segnalazioni si rivela essere utile ma nonostante l'investigazione non abbia mai fatto grossi progressi la polizia aveva diversi sospettati vediamoli insieme uno di questi era un uomo afroamericano di nome robert elwood askins robert askins era un uomo di mezza età che lavorava come tecnico informatico siete pronti all'ospedale saint elizabeth si pensava che quell'ospedale avesse qualche ruolo nella vicenda perché appunto molti dei corpi venivano trovati proprio lì vicino quindi si pensava che il responsabile avesse qualche connessione con l'ospedale poteva essere un paziente o qualcuno che appunto ci lavorava e robert askins sembrava corrispondere perfettamente al profilo perché non solo lavorava al saint elizabeth era anche stato un paziente lì in passato ma fatevi raccontare qualcosa in più su di lui nel dicembre del 1938 askins aveva avvelenato una prostituta di nome ruth mcdonald usando del cianuro di potassio e il motivo di questo gesto era che un'altra prostituta gli aveva trasmesso una malattia venerea un'altra prostituta neanche lei non che questo avrebbe giustificato il gesto ovviamente era quindi stato mandato al saint elizabeth per essere curato in modo da essere abbastanza sano mentalmente per sostenere un processo 13 anni dopo nel 1952 askins viene incriminato per lo medio di questa donna e passa diversi anni dietro le sbarre prima di essere rilasciato nel 1958 ma solo per una falla nel sistema il suo avvocato trova un cavillo insomma nella legge per cui riesce a farlo liberare prima ancora che la sua sentenza venisse emanata askins una volta in libertà passa i 20 anni successivi vivendo una vita molto tranquilla a washington dc trovando appunto lavoro lì al saint elizabeth proprio nell'ospedale di cui lui stesso era stato un paziente un tempo tutto questo però dura solo fino al 1977 quando improvvisamente aveva rapito una donna di 24 anni puntandole una pistola alla testa e l'aveva costretta a seguirlo fino a casa sua e una volta lì aveva passato ore e ore a torturarla e anche a farle violenza e a picchiarla brutalmente prima di lasciarla libera e questa è una cosa davvero orribile e per questo motivo la polizia era abbastanza certa che askins potesse essere il freeway phantom e quello che li convince ancora di più è che una volta perquisita a casa sua trovano numerose foto di ragazze molto giovani un coltello e diverse sciarpe da donna che sono state descritte come sporche sudice sporche più che altro di terra vengono anche ritrovati due orecchini d'oro da donna nel retro della sua macchina ma la cosa che più porta le autorità a pensare che fosse effettivamente lui è il suo uso spropositato della parola tantamount ve la ricordate quella parola era stata usata più volte in alcuni documenti legali riguardanti le accuse di omicidio di askins nel 1950 e diverse persone in carcere e all'ospedale saint elizabeth confermano che da quel momento era diventata parte del suo vocabolario usava spessissimo questa parola a volte anche a sproposito era una cosa che tutti avevano notato ed era la parola usata nel bigliettino lasciato teoricamente dal freeway phantom vi ricordate quello trovato nella tasca della gonna della quinta vittima brenda woodard e come già detto non era una parola così comune quindi sicuramente è una coincidenza un po curiosa questa no però chiaramente non dimostra nulla non è che uno non è libero di usare le parole come crede perché sennò viene incriminato di omicidio servivano prove più concrete e purtroppo non ce n'erano infatti dopo un po askins viene tolto dalla lista dei sospettati robert askins in ogni caso verrà successivamente accusato dei suoi precedenti crimini e riceverà l'ergastolo passerà tutto il resto dei suoi anni dietro le sbarre e morirà nel 2010 all'età di 91 anni fino alla fine comunque ha sempre negato di essere il freeway phantom affermando in un'occasione di non possedere la depravazione necessaria per commettere quel genere di crimini beh oddio non è che avesse fatto cose tanto meno gravi lui è ma comunque a parte askins le autorità avevano un'altra pista su cui per un po di tempo si sono concentrati ovvero i green vega che era una gang locale che all'inizio degli anni 70 aveva terrorizzato l'area di washington e il maryland i componenti guidavano una chevrolet verde ed erano responsabili di tantissimi studi e rapimenti nella zona in quel periodo che bel periodo per washington dc a sto punto non so se preferisco una piccola cittadina in cui non succede mai niente o una grande città in cui succede sempre tutto comunque la polizia si era focalizzata sui green vega dopo l'arrivo di una chiamata anonima qualcuno aveva contattato le autorità dicendo che appunto fossero loro i responsabili dei delitti del freeway phantom cioè loro erano il freeway phantom non era una persona sola come pensavano tutti dato che comunque il modus operandi tra i delitti del phantom e quelli dei green vega erano effettivamente simili i detective decidono di andare nel carcere lorton in virginia in cui alcuni ex membri dei green vega stavano scontando delle pene per altri crimini e interrogarli durante gli interrogatori uno di questi ex membri decide di collaborare gli dice di avere delle informazioni a riguardo ma che avrebbe parlato solamente se gli si garantiva l'anonimato i detective accettano questa proposta ma prima lui avrebbe dovuto fornirgli le date corrette i luoghi precisi dei delitti e qualche informazione che solo i detective e il killer potevano sapere cioè doveva fornirgli delle informazioni che non erano state mai rese pubbliche per dimostrargli che non stesse solo prendendo in giro i detective per magari ottenere qualche sconto di pena cose così che comunque capitano molto spesso succede molto spesso che un detenuto si inventi informazioni preziose solo per ottenere qualcosa in cambio ma questo detenuto invece gli dice tutto sapeva cose che solo il responsabile o qualcuno vicino al responsabile di quei delitti poteva sapere ma amici pochissimo tempo dopo prima che questo detenuto parlasse un politico che era nel mezzo della sua campagna elettorale nel maryland annuncia pubblicamente che presto ci sarebbe stata una svolta nel caso del freeway phantom perché un informatore detenuto nella prigione di lorton avrebbe presto parlato e grazie a questo genio indiscusso il detenuto entra nel panico e decide di non parlare più sapeva che se avesse parlato i green vega lo avrebbero fatto uccidere in tre minuti e mezzo e quindi si rifiuta di parlare con le autorità e da quel momento in poi nega addirittura di avergli mai parlato e di avere informazioni di ogni genere e questa era l'unica pista che avevano quindi senza questa il caso torna a essere un cold case altri due uomini considerati sospettati nel caso erano edward sullivan e tommy simmons questi due erano stati agenti di polizia per un anno e nel 1971 erano stati condannati per aver violentato e ucciso una ragazzina di 14 anni di nome angela denise barnes questa ragazzina all'inizio si pensava fosse una delle vittime del freeway phantom perché il modo in cui era stata uccisa era spaventosamente simile e il suo corpo era stato trovato a lato di una superstrada e inoltre il suo secondo nome era denise come molte delle altre vittime ma a parte questo non vengono trovate altre prove concrete che questi due fossero il freeway phantom anche se molti sostengono che probabilmente le prove c'erano ma venivano insabbiate da altri colleghi poliziotti corrotti per difendere sullivan e simmons o magari per non rovinare ulteriormente la reputazione della polizia quindi come vedete qualsiasi indagine qualsiasi pista non ha mai portato a nulla tutti gli sforzi sono sempre stati vani e la cosa ha sempre devastato la famiglia delle vittime la gente col tempo ha perso interesse nel caso anche perché come vi ho detto in quel periodo era esploso lo scandalo di watergate e i telegiornali non parlavano d'altro e la triste verità è che dopo un po' anche i detective hanno perso interesse nel caso la sorella di carol spinks racconta che quasi ogni giorno si recava alla polizia chiedendo se avessero novità sul caso ma tutte le volte veniva mandata via e la prova che alle autorità non fregasse più nulla arriva nel 1987 quando il detective roman jenkins che era uno degli agenti presenti quando il corpo di carol spinks era stato trovato viene promossa a sergente e la prima cosa che fa è riaprire il caso beh quando riapre il caso e va a riprendere dall'archivio le vecchie prove che erano state trovate scopre che non c'erano più tutte le prove sul caso del freeway phantom tutte erano state accidentalmente distrutte il sergente jenkins che non voleva arrendersi aveva allora contattato l'fbi e aveva usato i loro file per tentare di ricostruire tutta l'investigazione secondo le sue analisi il freeway phantom era un ragazzo solitario tra i 27 e i 32 anni che probabilmente aveva un lavoro durante il giorno probabilmente conosceva anche alcune delle vittime e per questo era riuscito a guadagnarsi la loro fiducia il sergente jenkins ha tentato con tutte le sue forze di risolvere quel caso ma purtroppo anche questa volta è stato tutto in vano nel 1994 quando andata in pensione il caso era ancora lontano dall'essere risolto questa serie di delitti orribili continua tuttora a perseguitare le persone di washington dc è spaventoso pensare che una persona possa aver fatto del male a così tante ragazzine senza mai venire catturato nel giugno del 2006 un giornalista del washington post di nome wildbert del quentin pubblica un articolo in cui scrive che il freeway phantom non sceglieva le sue vittime in modo casuale o per seguire una sua preferenza secondo lui sceglieva ragazze afroamericane perché soprattutto in quel periodo c'era molto razzismo la città ancora tremava dopo le rivolte a seguito dell'assassinio di martin luther king jr più del 70 per cento dei residenti del distretto erano persone nere che non avevano alcuna fiducia nella polizia che al contrario era formato al 70 per cento da persone bianche e questa sua opinione viene supportata da un ex detective di nome tommy masgro che faceva parte del corpo di polizia nel 1972 e dichiara vi cito le sue testuali parole che alla maggior parte delle persone all'interno del dipartimento di polizia non fregava assolutamente niente di quelle ragazzine nere se quelle ragazzine fossero state bianche avrebbero messo molti più agenti sul caso e si sarebbero sforzati di più per risolverlo su questo non c'è alcun dubbio e molte persone che pensano questo portano come esempio il caso di altre due ragazzine scomparse proprio in quegli anni sempre nella stessa zona nel 1975 due sorelle bianche di nome sheila e katherine lyon a differenza delle sei vittime del phantom il caso viene investigato costantemente per tantissimi anni e le prove vengono conservate con cura e non accidentalmente distrutte e infatti questo caso viene infine risolto nel 2017 quindi molti anni dopo quando il killer un uomo di nome lloyd welch confessa di averle rapite e uccise le famiglie delle sei vittime del freeway phantom non si sono mai riprese dal dolore delle loro perdite valerie moore la sorella più grande di carl spinks quella che la sera della sua sparizione le aveva ordinato di uscire andare a fare la spesa ha vissuto tutta la sua vita con il peso di questa cosa e distrutta sotto la pressione del senso di colpa si sente così responsabile della morte di sua sorella che per anni ogni giorno ha ripercorso il tragitto da casa sua al supermercato sperando di venire anche lei rapita dal freeway phantom perché solo così secondo lei avrebbe potuto perdonarsi anche patricia williams la sorella di diane williams l'ultima vittima ha vissuto tutta la sua vita sentendosi in colpa e soffrendo di una profonda depressione la perdita di sua sorella l'ha devastata così tanto che ad un certo punto aveva deciso di prendere tutto quel dolore e di trasformarlo in qualcosa di positivo aveva infatti deciso di diventare un agente di polizia e di occuparsi degli abusi su minori nell'area di washington ad oggi è in pensione ma ha sempre sognato di poter essere quella che un giorno avrebbe risolto il caso del freeway phantom ha sempre sognato di riuscire ad ammanettarlo lei stessa tutti i membri delle famiglie delle sei vittime si sono uniti per formare la freeway phantom organization un gruppo di supporto che serviva per aiutarli a guarire ad aiutarsi a vicenda stare meglio a sostenersi in quel dolore che condividevano insieme hanno anche lottato per mantenere sempre il caso aperto e per assicurarsi che le persone non scordassero mai il viso di quelle giovani donne a cui qualcuno aveva strappato ingiustamente e brutalmente il futuro nel 2001 il detective james trinum riesce a riaprire le investigazioni sperando che con la tecnologia moderna avrebbe potuto fare dei progressi avrebbe potuto testare il dna fare cose che ai tempi non si potevano fare riesce infatti in qualche modo ad ottenere il campione di liquido seminale trovato sui vestiti di diane williams e a mandarlo ad esaminare ma il medico legale capo del maryland non lo ha mai contattato per comunicargli i risultati il detective trinum passa i successivi anni a tentare in tutti i modi di ottenere questi risultati ma senza successo nel 2010 anno in cui va in pensione non aveva ancora mai ricevuto un riscontro ad oggi il caso è aperto ma purtroppo non c'è nessun detective che ci lavori e le persone hanno ormai perso le speranze rassegnandosi all'idea che l'identità del freeway phantom non si scoprirà mai amici anche oggi queste sono tutte le informazioni che ho su questo caso fatemi sapere se lo conoscevate già e che cosa pensate mi lasciano davvero l'amaro in bocca questi casi risolti più che altro perché sono convinta che se avessero avuto la tecnologia che abbiamo oggi l'avrebbero sicuramente risolto e le famiglie avrebbero perlomeno potuto mettere un punto avere una sorta di chiusura e trovo assurdo che comunque ad oggi non si riesca a risalire al killer o che qualcuno possa non contattarti per darti i risultati del test del dna ma in che senso alla fine ci sono parecchi casi che sono stati risolti a distanza di 30 40 anni proprio grazie al dna quindi spero davvero che un giorno succederà anche in questo caso amici io come al solito vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi grazie per tutto l'amore il supporto che mi inviate nei commenti vi sono davvero grata e riconoscente non ne avete neanche idea e come al solito amici ci vediamo al prossimo video ciao